Si è svolta con successo domenica 7 maggio la quinta edizione di Vivi Crotone, una città per tutti. Piazza Pitagora si è trasformata in un vero e proprio villaggio allestito da diversi gazebo dove il mondo associazionistico e sportivo della città ha promosso le proprie attività. Questa è una manifestazione che cerca un po' di raccogliere vari settori e quindi essere una manifestazione proprio per la città. Laddove c'è il coinvolgimento dei cittadini, laddove ci può essere un interesse per il settore del turismo, per il movimento dell'economia è tutto attenzionato dall'amministrazione comunale. È una domenica da vivere nel centro cittadino, una domenica dove le famiglie possono scendere a apprezzare anche un po' di sport grazie al CONI che ha allestito alcuni stand e altre associazioni sportive nel nostro territorio che sono sempre presenti a questo tipo di iniziative. Dobbiamo fare squadra e questo è l'obiettivo di questa rete che promuove Vivi Crotone e questo è solo il primo incontro e appuntamento di un lungo percorso che ci siamo dati per l'anno 2017. Grande successo hanno ottenuto nei bambini i vecchi giochi di strada. Dai più piccoli ha guardato anche la scuola di teatro e recitazione Croma proponendo una fiaba e alcuni intrattenimenti musicali. Dammi la mano e torna vicino, potrà essere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, potrà essere un fiore da questo mio amore per te. L'evento si è concluso con la maratona. Numerosi partecipanti che hanno dato prova della loro abilità lungo un percorso di 16 chilometri. È una manifestazione non agonistica, ma è una manifestazione non per chi arriva primo, ma per chi arriva ultimo. Perché noi vorremmo che le mamme con i bambini, con i passeggini, parteciperanno anche i disabili, le persone con i cani, parteciperanno tutti insieme e quindi avranno una maglietta di Vivi Crotone, una medaglia di partecipazione e tutti insieme si vive Crotone. Quindi è una gara per tutti come una città per tutti. L'importante è stare insieme, partecipare tutti insieme, avere un unico obiettivo e migliorare quella che è la nostra qualità della vita. Vivi Crotone, una città per tutti, pone le sue basi sul progetto del Parco Commerciale Naturale che mira a proporre una città vivibile e una migliore qualità della vita, valorizzando in particolare il centro cittadino.